A Teramo è tornata la paura del terremoto. Le scosse violente ed ondulatorie della serata di ieri hanno fatto riversare in strada tante persone, soprattutto nel centro storico della città. Molti hanno deciso di raggiungere le case del mare per passare la notte, intasando così le strade in direzione della costa. Altri invece hanno dormito in macchina nelle quattro aree di ammassamento predisposte dal comune, anche se il luogo più gettonato è stato come sempre piazzale San Francesco. Com'è stata la situazione questa notte? Quanti terramani hanno dormito fuori casa? Ma diversi terramani hanno dormito fuori casa. Tanti terramani hanno preferito trasferirsi nelle case al mare dove magari il terremoto si sente meno. Tanti sono stati ospitati in centri di accoglienza. So che l'ospedale vetrinario ha ospitato 200 ragazzi dell'università e insomma devo dire che la paura è stata tanta e i cittadini hanno preferito dormire con l'immacchina nelle quattro aree di accoglienza che noi abbiamo preparato a Teramo, a San Nicolò, a Colletterrato, alla Gammarana. C'è una paura, paura giustificata da questo sisma che è ripreso in maniera dire abbastanza prepotentemente. E se tanti terramani hanno deciso di affrontare la notte post terremoto al mare o in macchina, tanti altri hanno razionalizzato la paura ed hanno scelto, convinti, di restare nelle proprie abitazioni. Lei ha scelto di dormire in casa o in macchina? In casa naturalmente. Non ha avuto paura? Ovviamente rascosti terremoto da sempre un po' paura, però dopo si razionalizza. Siccome le recenti esperienze dell'Aquila, di Amatrice e quelle precedenti ci hanno insegnato che ci sono due scosse e poi ci sono degli sciami e quindi se non è cascata con la scossa più forte nulla, intorno a te vuol dire che non cascherà nulla. Com'è andata questa notte di terremoto? Un po' di spavento all'inizio e dopo la nottata sul letto vestiti pronti per la fuga. Quindi lei ha scelto di dormire a casa? Sì, sì, anche perché in una casa abbastanza, insomma, sicura. La famiglia? La famiglia, mia moglie dorme tranquilli, mio figlio è un po' spaventato, anche perché si deve sposare dopo domani, voleva che gli cacciavano qualcosa addosso.